A questa assemblea vogliamo mandare anche un messaggio alla destra, che in questi giorni, l'avrete visto, si è messa con impegno e con anche una qualche dose di creatività ad attaccarci, ma finché ci attaccano non è un problema. Bene, il punto è che ci vogliono pure dare delle lezioni. Si sono messi in testa di insegnarci cos'è la politica, cos'è l'etica e anche, udite un po', di spiegarci cosa sia la legalità. Allora io vorrei dire a Giorgia Meloni, ma anche a Matteo Salvini, poi giù per l'Irano, che noi lezioni da questa destra non ne prendiamo. Noi non prendiamo lezioni da una destra di governo che non sa pronunciare la parola antifascista. No, mi spiace. Da un ministro dell'interno che rispondendo al mio question time ha parlato tre minuti e non è riuscito a nominare la parola fascismo, neanche quella. No, lezioni da voi non ne prendiamo. Non prendiamo lezioni di legalità da una maggioranza che c'è dentro un partito che deve restituire all'italiana e all'italiana 49 milioni di euro. Oh, 49 milioni di euro. Ci stanno a spiegare con qualche creatività, ma su questo poi risponderemo per filo e per segno, in tutte le sedi dovute, che c'è qualche amorosità, ma risponderemo perché noi abbiamo bilanci trasparenti. Ringrazio il tesoriare Mimmo Caporusso per il lavoro di questi anni e anche per il lavoro di questi giorni. Loro 49 milioni di euro e quelli sono accertati. Lezioni non ne prendiamo. Non prendiamo lezioni dal governo di Daniela Santanchè e del Fus Garbi. Non prendiamo lezioni di legalità da voi. Chiaro? Non accettiamo lezioni sulla casa dal governo che come primo atto ha svuotato il fondo affitti. 300 milioni per regalarli alle società di serie A. Non prendiamo lezioni da voi. Chiaro? E soprattutto non prendiamo lezioni dal governo che ogni giorno che è passato dall'inizio a questo punto della legislatura lo ha impiegato per inventare un nuovo reato o per aumentare le pene. Perché mandare in galera i ragazzini che organizzano i rave è cosa buona. Perché mandare in galera gli operai che bloccano una strada per difendere il posto di lavoro è legalità buona. Perché mandare in galera gli attivisti di ultima generazione è legalità buona. Perché mandare in galera gli ultimi, degli ultimi, nelle periferie delle nostre città è legalità buona. Ma invece togliere l'abuso d'ufficio per proteggere chi utilizza la pubblica amministrazione per fare comodi suoi allora va benissimo. No, noi da voi lezioni non ne prendiamo.